Primo ottobre, festa dei nonni. Oggi voglio mettere un video diverso. Sì, il calendario ci dice che il primo ottobre è la festa dei nonni, ma secondo me i nonni vanno festeggiati tutti i giorni. E non c'è una ricorrenza in particolare, ma ogni giorno bisogna vivere con loro, fare tesoro dei loro insegnamenti. Sinceramente io sotto questo punto di vista mi sento super fortunato, perché ho dei nonni fantastici che ogni giorno mi riempono il cuore. Mi fanno divertire, mi fanno star bene, vedo che fanno star bene anche voi, facciamo divertire anche voi. Ma adesso dai, chiamiamoli qua. Eccolo qua, nonno Faustino e nonna Maria. Nonno Faustino, che vuoi dire? Che c'ho un nipote fantastico, che mi vuole tanto bene. Ma tu me ne vuoi? Ma io gliene voglio tanto. Anche se delle volte? Anche se delle volte mi fa arrabbiare. Vabbè, però c'è sta. Nonna Maria? Che devo? È bravissimo, è un bravo ragazzo, è sempre attento. E io sono sicura che qualcuno dal cielo me l'ha mandato. Va bene, comunque, a parte tutto sto popò, li abbraccio anche da parte vostra. Viva i nonni, viva la festa dei nonni. E festeggiateli sempre, perché se li meritano. Vivo agli nipoti. 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 Ciao. 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 Ah, comincia. Ciao.